Bello anno lì, sarà un buon anno, speriamo che dopo il 21 riusciremo a liberarci da questo clima asfissiante, claustrofobici, noi in maniera asfittica. Allora, Il principe cerca figlio, un film stroncato quasi da tutti, ma a me è piaciuto, così come Francesco Alò, io sono il falò, allora, Tonino accolla, non c'è più, chi si è accollato l'onore di doppiare Eddie Murphy, sostituendo la voce storica da doppiatore di Tonino, a voi l'onere di cercare su Wikipedia. Ok, Il principe cerca figlio, Il principe cerca moglie e Il principe delle donne, non confondete questi due film, primo di Landis, secondo di Brewer, sarò molto breve, no, mi dilungherò, sarò prolisso. Sì, il film è un po' lento all'inizio, ecco, e forse dura troppo, ma io sono un uomo durevole, imperituro, io non muoio mai, io mi rigenero e ringiovanisco. Somiglio un po' a De Niro, De Niro e Eddie Murphy, per il Buddy Cup Movie di Tom Dave, regista scomparso, dopo aver esordito con pallottole cinesi, con Jackie Chan e Owen Wilson, Short Time, film della Warner Bros., sotto l'egida della Troy Baker di De Niro, fu un flop colossale, Eddie Murphy veniva da degli insuccessi, così come è successo negli ultimi anni, tranne, ecco, Dolemite, Dolemite, dove lo mettiamo, Is My Name, sempre di questo regista, come poi vi leggerò. La mia recensione comparirà per Daruma View Cinema, no, per Ciao Cinema, gestito da Fabio Zanello, appena uscito un articolo che sarà corretto, si sarà portato una correzione, riguardo le nomination agli Oscar, siamo in prossimità di queste elezioni, no, 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 ecco, allora, veniva da dei flop, tra cui Pluton Nash e anche De Niro, nonostante i presenti miei, poi è divenuto un franchise, anche il principe, cerca moglie, sta diventando una serie, io vedrei bene, non c'è due senza tre, ecco, dicevo, Bowfinger, bellissima però, commedia di Frank Oz, fra l'altro regista di The Score, sottovalutato, così come lo è Bowfinger, del regista del remake, non del sequel, della piccola bottega degli orrori, Rick Moranis, tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, ma mi ho perso l'aereo, io mi sto allargando troppo, mi sto ingigantendo, no, allora, un bel film, un bel film, secondo me superiore anche all'originale, sì, mi accordo e mi accodo, diciamo, mi accorpo alla recensione di Paolo Merighetti, che stroncò, continua a stroncare, nella sua nuova edizione del dizionario, Il principe cerca moglie, l'opera forse più sopravvalutata, sebbene sia un movie inamovibile di John Landis, nei commenti Facebook, per questa mia dichiarazione, sono stato, nuovamente non dico aggredito, ma bonariamente preso in giro, diciamo in maniera maligna, qualcuno ha osato dire, beh, ma tu ti fidi di Merighetti, prezzolato, ma io mi fido di Nick Pizzolatto, è un bravo sceneggiatore, voi fidatevi del falotico, un buon recensore. Allora, spostiamoci nell'altra stanza, giornate plumbe, malinconiche, strozzate da questo Covid, estenuante, allarmante, sempre più ammorbante, ecco, vedete? Poi vi leggerò la recensione di Merighetti, stringata e sintetica, diciamo, nella sua brevità. Ma torniamo a questo film di Craig Brewer, bravo, 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 e poi ci sarà l'imitazione mia di Eddie Murphy, versione, diciamo, originale, della sua battuta, rivolta a The New Showtime, c'è anche Rainer Russo, presente anche in The Adventures of Rocky and Bullwinkle, e William Shatner Star Trek, vi ricorda qualcosa? Allora, ricordiamo, allora, anzi, oggi recensiamo il sorprendente, e secondo me il principe cerca figlio con lo strepitoso Eddie Murphy. A me dissero che io fui la seconda legge della termodinamica, cioè dell'entropia, no? L'energia che si rigenera viene riciclata, no? Fui uno sfigato. Se qualcosa può andar male lo farà la seconda legge di Murphy, e Murphy, come me, si è rigenerato, in quanto non smemorato, rielaborando il suo passato, diciamo, si è riamodernato. Il principe, Prince, è un nero come Prince, non è ancora morto, anzi, è cinematograficamente, e non solo rinato, soprattutto da quando sta con quella biondona, page, butch, 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 che non è affatto male. Lui è il principe delle donne, no, no, dicevo. Allora, io sono un bambino d'oro, la miglior difesa in tempi di durezza, la miglior difesa è la fuga, ok? Perché una poltrona per due è sempre meglio che una poltroncina da soli, vero? Non poltrite. Ok, raddrizzatevi, allora, tenete destra la mente, tenete eretto qualcos'altro, e conducete una vita regolare e dritta. Ok, film disponibili in streaming su Prime Video di Amazon a partire dallo scorso 5 marzo. Avevo scritto che le nomination si terranno il 5 marzo, no, in realtà il 15, questo sarà l'errore che verrà corretto. Ok, seguito, seguito, no, seguito, io fui perseguito, inseguito, dovevi perseguitato, a distanza di circa 30 anni dal clamoroso colt dell'impagabile John Landis, una poltrona per due, un lupo manare americano a Londra, e poi, naturalmente, il super colt, The Blues Brothers, ovvero il principe cerca moglie, il principe cerca figlio, come sono stati bravi a trovare una traduzione, ecco, ne riprende in originale l'esatto titolo, cioè Coming to America. Coming to. Present Continuous, un'azione in fase di svolgimento, un'azione futura programmata in precedenza, disapprovazione dei confronti dell'abitudine considerate irritante, io non disapprovo questo film, a differenza di molti critici frettolosi, troppo snob, lo approvo, in pieno, ok? Ovviamente, apponendovi il 2, to, 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 essendone, per l'appunto, un sequel, anzi, essere più precisi, diviene Coming to, to, così, America, per cui, in base a un facile gioco di parole, di assonanze, secondo la lingua anglosassone, to assume il significato di to, to, ok? Look at me, mi piace il mio look, diceva De Niro, al viscido, e Nate La Sfida, look at me, look at me, o look, to me, nothing or anything, allora, stavolta direttamente da Craig Brewer, classe 71, mi sono del 79, e amo il 69, e disconosco, comunque, il 68, che si è rivelato poco rivoluzionario, allora, lo stesso regista del fenomenale, da noi, è ottimamente recensito, film però di Netflix, si, recensito su Ciao China, e naturalmente, con lo stesso protagonista, Eddie Murphy, Ficky, se no, sono un uomo di senno, e se no, staccato, o anche tutto attaccato, che fate, me lo staccate, e allora, dunque, come si suol dire, squadra che vince non si cambia, ed ecco allora, tornare in un ruolo minore, ma decisamente incisivo, anche Wesley Snipes, lui, Demolition Man, Stallone, Brambilla, Brambilla, non quella donna scoscieta, che andava porta a porta, che come attrice sarebbe una cagna, e assomiglia Marina Ripa di Meana, sul carlino, il resto del carlino, cosa dicono, che dobbiamo svecchiarci, allontanare queste donnacce, allora, trama, Grace Jones, fu una donna di malaffare, il principe delle donne, allora, trama, queste donne che tramano, che ti bramano anche, nella sempreverde lussurigente, non lussurosa, però lussuosa, sì, floridissima, Zamunda, a tu e nè, dom dom, infatti c'è anche un leone, non siamo, però in The Lion King, a Kim, a Kim, a Eddie Murphy, dopo il suo lungo principato, il principe della risata, è commentato al principe, no, 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 allora in seguito alla morte di suo padre, James Hills Jones, doppiatore, in originale, di Dark Fener, o Dark Water, che è, non Water, Water, what do you want? Niente, allora, e, Conan il Barbaro, e poi l'avete visto, and the soul man, tanan 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 tanan, film con, sì, Thomas Earl Howell, e lì c'è Melora Hardin, che è colei, la rossa, Red Dead, di fuoco, dell'incipit, colei che viene, ecco, morta, ammazzata, dopo essere stata, diciamo, molto palpata, Gene Hackman, in potere assoluto, da me, recentemente recensito, allora, James Hills Jones, viene incoronato, e, in soul man, lì, tutta scosciata, smutandata, guardatelo, e non allupatevi, però, se vi arrapate, va bene, signori, in contrastato del regno, il soul, il jazz, il blues, Redman blues, c'è anche del rock, nei credit finali, John Legend, ok, assieme al suo inseparabile braccio destro storico, Arsenio Lupin, no, Arsenio Hall, che, dopo il principe cerca moglie, non abbiamo più visto nessun lungometraggio, tranne negli Stati Uniti, l'hanno visto in qualche TV movie, qualche shore, e nel suo Arsenio Hall show, show, amico da una vita, e fido consigliere generoso, al fine di rintracciare e abbracciare suo figlio, Germain, 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 Fowler, il re Achim inizierà un piccaresco viaggio, in particolar modo esistenziale, ricolmo di colpi di scena esilaranti, che partirà dalla sua immaginaria, terra originaria, per approdare ai Queens, a Queens, il quartiere dei neri di New York, ma non è Harlem, no, dove tutto ebbe inizio tanti tanti anni fa, ma siamo a Los Angeles, no, i Queen, a lei piacciono i Queen? Ma Prince era come Freddie Mercury? No, no, Prince era uno che... Allora, Achim è da tempo sposato con Lisa, Sherry, Hedley, 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 della quale ha avuto tre figlie, che sono abbastanza fighe, ma nessun discendente maschio, che possa ereditarne il trono. Achim è peraltro minacciato dall'infido generale Izzy, Izzy, Snipes, a onore del vero, nonostante il planetario successo straordinario riscontrato dal film di Landis, dobbiamo ammettere con estrema onestà intellettuale che il principe cerca mogli, non ce ne vogliono i suoi affissioni, ad o incalliti, non è il film migliore di Landis, anzi, forse il peggiore, certamente, certamente, probabilmente è stato anche esageratamente sopravvalutato, invece questo film è a rated, per via di qualche battuta un po' sconcia, non lo so, Val, se vale ancora soprattutto per le prove mimeticamente trasformiste di Murphy, camaleontico come De Niro, quest'articolo sulle previsioni agli Oscar è scritto per quanto concernette, non per quanto concerne, per quanto riguarda, concernette, il passato remoto di concernere, concedetemelo. Allora, dobbiamo ammettere con... allora, Landis, ecco, Val, soprattutto Murphy, e Hall, moltiplicatisi in vari ruoli dai loro stessi personificati, a modo del professore matto, dietro magici trucchi all'avanguardia, il film fu candidato al best make-up, proprio del maestro Rick Bucker, truccatore immenso, vincitore di ben sette Oscar, no? Lui, avete visto il mio mediometraggio Lupus in fabula, truccatore anche di Wolfman, di Joe Johnston, con benissimo dottore Anthony Hopkins, artefice degli effetti, non gli effetti speciali, fra gli altri, però, di un lupo mannaro americano a Londra, non del sequelo, anche American Wolf in London, per il suo e nostro Landis, e per lo lato di Joe Dante, non lo so, mi piacciono i miei denti, denti canini, sguardo lupesco, quasi lombrosiano, sono un uomo ombroso, eh sì sì sì, siamo adombrati da questo copy, allora, azzardiamo quindi a fermare coragiosamente che a dispetto delle aspettative negative riguardo alla riuscita di questo sequel, il principe cerca figlio, invece possibilmente paradossalmente, superiore al capo stipite, se avete letto bene, la nostra non è una semplice provocazione, la pellicola di Landis, rivista infatti col senno di poi, ci appare molto datata, è dotato, è di Murphy perché sta con uno che ha un senno, è piena di battute e gag, che oggigiorno si rivelano vecchiotte scontate, per questa bionda di Edim, ci vorrebbe una gag bang, allora, il principe cerca figlio, chiariamoci, non è un masterpiece, capolavoro ma nella sua freschezza e nella sua antipretenziosa, sobria e brillantezza asciutta, forse funziona, ecco beh, di più ed è più moderno, più ficcante, con qualche battuta, veramente tagliente, penetrante, Murphy e Hall sono leggermente fisicamente appesantiti, questo sì, d'altronde sono trascorse tre decadi da allora, e anche qui c'è la scena di flatulenza, non di Eddie Murphy, del professore Matto e seguiti vari, è fissato, anche l'idromassaggio, davo certe botte, ma ancora continua a dare le botte alla moglie, allora dicevo, botte ma non percosse, proprio, lei viene scossa, da questo, di colore, ma più che altro di calore, allora, sono trascorse tre decadi da allora, anche qui però si sdoppiano, e triplicano con l'istrionismo dei tempi d'oro, allora, dopo trent'anni, no, trent'anni, sono attempati, sì, eppur conservano ancora una gagliardezza attoriale, da fare impallidire tutti i comici odierni, insomma, sono informissima dal punto di vista prettamente recitativo, regalandoci risate a go-go, comunque a Di Murphy, è anche un bel gigolo, gigioneggiando da par loro, con impari bravura, entusiasmante e spumeggiante, secondo voi, eh sì, anche Jim Carrey andrebbe recuperato, perciò il principe cerca figlio, nelle sue due ore di durata, però dura molto, questo Murphy scorre, che è una bellezza, sulle sue bellezze, no, sulla sua page, e si lascia vedere, molto volentieri, non annoia mai, intrattiene con gusto e piglio, anzi, è la grandissima piglia, e qui c'è la filastrocca, la dolemidolemite, malgrado qualche lentezza, alcune sbavature, nonostante a fasi alterni, scada in inevitabili sortite, nella consueta volgarità, eccessivamente goliardica, e sboccata, tipica dell'inconfondibile, triviale, no, a tratti insopportabili, mood morfiano, però, meno smorfia, da porti di Murphy, in questi giorni tristi di covid-19, il principe cerca figlio, vi donerà una liberatore catartica, ventata di pura aria fresca, rinfrescatevi le idee, ok, elargendovi sana, sacrosanta letizia, armoniosa, godibilissima ilarità, diciamo, viva, acemente fanciullesca, si, regrediamo all'infanzia, e recuperiamo, quello spirito ironico, non dobbiamo essere malinconici, neppure da manicomio, il riso abbonda sulla bocca degli stolti, ma chi l'ha detto, non abbiate rimpianti, io non ho nessun pelifero impianto, eh sì, crescono i peli, il lupo perde il pelo, ma non il vizio, il lupo mannaro, e allora, abbiamo bisogno come non mai di allegrezza, di un po' di divertente, spensieratezza, in giro, sì, vai con l'allegrezza, si leggono pareri discordanti, e la critica statunitense, in merito a questo film di Brewer, soprattutto in Italia, la pellicola non è stata molto amata, la cosiddetta intelliginzia, intelligente di che, allora, che l'ha reputata piuttosto piatta, e priva di vera verve, allora, salvandola solo in virtù, dei suoi numerosi, ottimamente orchestrati, numeri musicali, invece, sbaglia completamente, ripetiamo, il principe cerca figlio, non passerà alla storia, inoltre, si dimentica subitaneamente, immantinente, però non è affatto disdicevole, no, per niente, anzi, ci auguriamo vivamente, che l'oramai affiatato terzetto, formato da Brewer, Morphe e Snipes, ci alletti presto, di altri giocosi, e uforici gioiellini come questo, l'inizio del principe cerca figlio, leggermente tentenna, ma poi il film, carbura esplosivamente, sì, 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 io tentennai, poi accelerai, e rinsavimi, restaurai, ringiovanì, e sono ancora in platform, allora, Merghetti, cosa disse in merito, non lo so, cosa disse, accendiamo la luce, perché non si vede nulla, allora, il principe cerca, moglie, alla ricerca del vero amore, a Kim, principe ereditario del regno di Zamunda, si finge povero, nel quartiere new yorkese, di Queens, tornerà in padre, con la figlia, del gestore del fast food, presso cui lavora, lavoratori, edulcorato, e sciocchino, malgrado qualche frecciato, frecciatina, l'American way of life, lo stile di vivere, statunitense, Landy si diverte, a citare le, l'esotismo, kitsch, dei technical paramount, di un tempo, Murphy, e Hall, se la spazzano rispettivamente, in quattro, e tre ruoli diversi, lo spettatore, invece, rischia, lo sbadiglio, attenti ai titoli di coda, vabbè, uno strascico di polemiche, Murphy fu, è stato accusato, di aver rubato il soggetto, a un giornalista, ma, di mio, ok, adesso spostiamoci nuovamente, in sala, volete vedere lo showtime, questo mi fu regalato, non sapete da chi, ma non è male, non è male, comunque meglio 48 ore, che non è di John Landis, bensì di Walter Hill, ancora tu, non dovevamo vederci più, poi ci fu il sequel, ancora 48 ore, sono duro, come Nick Nolte, o forse come Mitch, Mitch Preston, questo omaggio particolare, non convenzionale, ad arma letale, Little Weapon, Eddie Murphy, Danny Glover, io sono Mad Max, sono pazzo con Mel Gibson, oppure, mi sono ammosciato, come De Niro, sono arrugginito, vi ricordate quella scena, che si vede nel trailer, no, di showtime, Controlling your neighbor, every Friday night, a date, Eddie Murphy lo guarda, con la voce, sì, di Tonino a colla, Controlling your neighbor, every Friday night, a date, no, rifacciamo, Controlling your neighbor, every Friday night, a date, sì, ok, Boomer, Controlling your neighbor, every Friday night, a date, Controlling your neighbor, every Friday night, a date, Controlling your neighbor, every Friday night, a date, It's easy, è facile, e De Niro, it's all time, how stupid is De Niro, come è stupido De Niro, una farsa, una pantomima, una pochette, un film forse non perfettamente riuscito però divertente, esilarante, con questo Eddie Murphy un po' strafottente e questo vecchietto, al limite della deficienza, De Niro che si prende in giro da solo, le autoparodie, Eddie Murphy ha trovato adesso in Craig Brewer una bella spalla registica per ricrearsi dal nulla, stasera forse, anzi quasi sicuramente sarà una live streaming con un mio amico, si parlerà di cinema, il cinema è di una volta, il cinema dei 90's, quando vigevano, esistevano le VHS, le VHS, poi soppiantate dai DVD, quindi arrivarono i Blu-ray, La gente non legge più Chuck, quando partiranno i primi Chuck di Killers of the Flower Bone, ho scritto anche un articolo per dare una viucina e presto sarà pubblicato, cosa sappiamo del nuovo film di Morti Scorsese con Bobby De Niro e Eddie Murphy, no, con Leonardo DiCaprio, Allora, ve la rifaccio, non è venuta bene, Chuck, appunto, motore azione, vai Bobby, c'è Renna Russo, presente no? Armaletta alle tre, ecco, Controlli on neighbor every Friday night, a date William Shatner, this, this guy is the worst actor ever seen, peggiore attore che abbia mai visto, come lui, considerato alla strega di Chuck Norris, Controlli on, controlli, control, 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 devi essere misurato, devi essere in perfetto controllo recitativo, Controlli on neighbor, il tuo quartiere, no? Sì, veniamo controllati dalla polizia, siamo in zona rossa, Your neighbor every Friday night, venerdì, dicono che la situazione dovrebbe migliorare, dal 21, forse saremmo liberati, Controlli on neighbor every Friday night, date, c'è qualche incertezza linguistica, dai, dai, forza, falotico, Dai, ci vorrebbe Eddie Murphy, dai, dai, Eddie Murphy, ma tieni di conto, Stefano, come reciti, male proprio, Controlli on neighbor every Friday night, date, Controlli on neighbor every Friday night, date, it's easy, eh, you understand? Qui siamo Matti McConaughey, no? And now, arriviamo a Reginali Lidoux, Abbiamo citato i prezzolati, gli stempiati, no, pizzolatto, Dai, ci vuole la quarta stagione di True Detective, lì c'era un nero, ma non era Eddie Murphy, era Maeshallah Ali, Comunque a me non dispiace anche Colin Farrell, nella seconda stagione, il detective, 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 io sono Detective Noir, ho messo questa recensione su FinTV, sarà presto su Ciao, 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 Cinema! Potrei fare il doppiatore, con la voce di Ferruccia Mendola, di Stefano De Sando, oppure di Tony Lacolla. Oggi, oggi voglio un recensivo, eh, Sono un po' Jim Carrey, sono Jerry Lui, sono uno stand-up comedian, Controlli on neighbor every Friday night, date, it's easy, it's easy, it's easy, it's easy! Sì, sono un poeta, comunque, come il grande Bob Dylan, il grande poeta. Sono un po' folle? No, sono uno scrittore, come con Follet, non lo so, ma sono un folletto, sono un folletto, sono un pagliaccetto. Il principe cerca figlio, voi che cercate? Le figli? Quante belle figli, madame Dore, quante belle figli! Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mire, do, lolo, 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 lolo! Per fare il doppiatore, per doppiare, ci vuole un gioco flemmatico, di diaframma. Ho una voce da Pris. a me piacciono anche i musical mi piace anche Francesco Gabbani Occidentalis Calma Punturei tutto scorre, quello di Eddie cantiamo nonostante la pioggia ecco, torrenziale di questo periodo quasi ancestrale il principe cerca figlio non è male, secondo me non è male ma la prima ora è un po' lenta però questo film è lento qui a Bologna sono ma quel disgraziato quello lì vola basso è lento, dovrebbe migliorare non è male, ma niente No, no, no.